Exoratics, stai cercando un SUV dalle linee grintose e dalla spiccata personalità? Allora ti presento questo splendido Nissan Qashqai in allestimento business 1.5 di cilindrata, 110 cavalli, alimentazione e diesel Stiamo parlando di un veicolo aziendale Ha avuto un unico proprietario precedente ed è tenuto veramente benissimo Inoltre come tutti i nostri veicoli ha superato il test dei 150 punti di controllo Svolto dai nostri automotive expert Stupendo in questo dark grey metallizzato Il colore è eccezionale e guardate le scanalature sul cofano come la rendono grintosa La mascherina intrecciata a nido d'ape ha il logo e i dettagli cromati Stupendo anche il gruppo ottico che si allunga sulla fiancata L'assetto è leggermente rialzato e i cerchi sono cromati multirazza in lega da 17 pollici La fiancata è sportiva ed elegante, molto bello il multicolor nero sul bumper e sugli specchietti I dettagli di bordatura inferiore e superiore dei finestrini invece sono cromati E i finestrini posteriori e dell'1.8 sono oscurati Perfetti per garantire privacy e protezione dai raggi solari Anche la parte posteriore è ben dinamica, guardate che bella la forma particolarissima del gruppo ottico Inoltre è presente anche lo spoiler che lo rende veramente dinamico Sono presenti sensori di parcheggio e retrocamera Il bagagliaio è veramente comodissimo Avremo infatti delle comode tasche e portaoggetti I ganci, la luce di cortesia Una sogna di carico inesistente per rendere comodo e agevole il carico dei nostri bagagli E ovviamente anche un doppio fondo Diviso in due sezioni per ulteriori comodità Partiamo da una capacità di 430 litri Ma abbassiamo i sedili frazionabili 60-40 Per arrivare fino a 1533 litri Davvero niente male i consumi Parliamo di 18,2 km al litro Passiamo ora a visionare il lato posteriore I sedili sono spaziosi e il divano è veramente ampio Sono in tessuto nero con cucitura vista e davvero di design Inoltre sono presenti gli attacchi Isofix e devo dire che sono morbidissimi, super confortevoli Come potete vedere lo spazio non mancherà assolutamente Il tunnel centrale è croppato e al suo interno un comodo vano porta oggetti Comodissime anche le tasche E devo dire che si presenta arioso e spazioso grazie al cielo chiaro Ma con questa predominanza di nero con qualche dettaglio più chiaro è veramente elegante Ma se parliamo di eleganza passiamo subito alla parte anteriore I sedili sono sempre in tessuto ma si arricchiscono di moltissimi sostegni e sono veramente comodissimi L'interno delle portiere e la plancia sono elegantissime come vi dicevo prima Grazie anche a questi dettagli nero lucidi e cromati Sul volante possiamo trovare le regolazioni per il volume e i nostri media Nonché delle chiamate, comandi vocali, cruise control e limitatori di velocità Ma non perdiamo tempo accendiamola subito insieme per vedere che ha percorso meno di 30.000 km Sulla plancia troviamo le bocchette di aria azione e spostiamoci un po' più in basso per il display dell'infotainment E noi troviamo intanto un comodo lettore cd, una scheda sd per il nostro navigatore satellitare Lo schermo inoltre è totalmente touch da cui potremmo gestire le nostre chiamate La radio con anche la lista delle nostre stazioni preferite, appunto il lettore cd Il cavo aux per poter ascoltare i nostri media La gestione della retrocamera che è veramente super safe Le mappe, il navigatore, le impostazioni di setup e del nostro veicolo Più sotto abbiamo il climatizzatore con questo schermo digitale che è B-Zona E invece al centro troviamo un comodo vano portoggetti compresa da 12V Il freno di stazionamento che è automatico Il cambio a 6 marce che è manuale Dei comodi porta bibite, svuota tasche E ovviamente anche il nostro fidato poggia braccio Che diventa apribile con dentro le nostre prese USB e AUX Se questa splendida Nissan Qashqai ti è piaciuta Allora corri sul nostro sito rattiauto.com E potrai bloccare queste e moltissime altre auto dei tuoi sogni Con soli 100€ senza impegno Prenotare una videocall con uno dei nostri sale Oppure la portiamo direttamente a casa tua In tutta Italia in soli 7 giorni con garanzia europea e igienizzazione Ricorda sempre che 14 giorni pre-recesso E seguici su tutti i nostri social Noi ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao